Oh, frullamani, siete un'infinità e solo per voi la spettacolare, intrigante, strafottente occasione di acquistare la maglietta, piena di sangue vero, del primo Maurizio, colui che è deceduto combattendo col bastardo kebapparo. Questa maglietta è un pezzo unico, non esistono altre. Base d'asta? Un euro. La mettiamo su ebay. Si può dire ebay su youtube? Sì, che cazzo me ne frega. La mettiamo su ebay. Base d'asta? Un euro. E chi l'acquista e la paga e vince l'asta? Io personalmente autograferò il vetro, col penarello per il vetro che non ho adesso, se non l'avrei fatto davanti a voi, e filmerò. Vi manderò il video personalizzato dove vedete che io filmerò sta cosa qui con dedica, ok? E per chi mi odiasse, per tutte quelle persone a cui sto sul cazzo, e spero ce ne siano tante perché così ho qualcuno da odiare anch'io, c'è la maglietta del kebapparo, il bastardo che ha ucciso l'altro Maurizio. Ma se non fosse stato per lui io non sarei mai venuto qui in questa dimensione per frullare con voi. Quindi, kebapparo, Maurizio originale. Un euro e un euro. Tanto sti cazzi dei soldi, no? È per averla, giusto? Oddio, aspe, oh, no un euro che costa un euro, eh. È la base di partenza dell'asta un euro. Quindi affrettatevi con fritta, fate la vostra offerta, fate il vostro affitto, fate il vostro affitto, fate la vostra affetta. Fabbankulo. Fabbankulo.